Il programma che segue analizza l'uso e l'abuso di droga attraverso la storia. La visione è a discrezione dello spettatore. Perché usiamo le droghe? E quanto tempo fa abbiamo iniziato ad usarle? Gli uomini preistorici usavano funghi allucinogeni. I misteri dell'età della pietra. Quale civiltà antica inizia a usare le droghe per indurre uno stato di trance? Quindi era come un gigantesco rave greco, grazie al quale speriamo di partire verso un altro mondo. È la realtà, solo che la percepisci in maniera amplificata. Quali droghe alimentano gli imperi e ne avvelenano altri? E quando è che il governo interviene per dire basta? La bruciate tutta? La bruciamo tutta. È un bel po' di erba, amico. Le droghe che oggi chiamiamo pesanti sono sempre state considerate così. E come facciamo a sapere quali di queste non sono dannose per il nostro corpo? Adesso mi state facendo venire l'ansia. Avete droghe per l'ansia?